Questa mattina chiediamo allo Spirito Santo di illuminarci per comprendere qual è la volontà di Dio al nostro riguardo, per smenarci il cammino verso la santificazione della nostra vita. Perché il tempo passa e noi ancora siamo così attardati dalla nostra infinità d'agile e non procediamo nella via per cui lo Spirito Santo ha voluto incaminarci. Chiediamo pertanto questa mattina allo Spirito Santo di conoscere quello che Dio vuole da noi in modo che possiamo crescere in qualità e armonia nella vita dello Spirito, una qualità migliore e un'armonia nella crescita, una qualità per cui noi miglioriamo la nostra condotta e scegliamo le cose più belle per noi, non le cose deteriori, scegliamo il meglio per crescere in qualità e in armonia in modo che ci sia una crescita armonica di tutto l'essere nostro in tutte le direzioni. E chiediamo allo Spirito Santo di liberarci e di guarirci, di purificarci interamente perché noi possiamo crescere in qualità e crescere in armonia. Il punto dove dobbiamo arrivare è l'autoriberazione e l'autoguarigione mediante lo Spirito Santo in modo da non essere debitori a destra e a sinistra per liberarci e per guarirci. Questo significa crescere in qualità, non possiamo mai essere cristiani inferiori, i quali hanno bisogno di questo, di quello, girano a destra e a sinistra in cerca di liberazione e in cerca di guarigione, in cerca di purificazione. Ogni cristiano deve autoguarirsi, autoguarirsi, autoguarirsi mediante lo Spirito Santo, che è purificazione, guarigione e liberazione. In questo momento chiediamo allo Spirito Santo di comprendere tutto questo. Nella strofa che troviamo verso l'ultimo, la penultima strofa del Bene Creatore, noi preghiamo per te siamo da Padre, si dice, oh Spirito Santo, fa che noi conosciamo Dio Padre, poi fa che conosciamo Gesù Cristo, fa che conosciamo te. Uno dei doni dello Spirito, il primo dono dello Spirito è la conoscenza di Dio. Noi non conosciamo Dio, ed è quello che chiediamo allo Spirito Santo, non una conoscenza nozionale, ma una conoscenza vera, in modo da accedere a Dio, adorare Dio con cuore e cuore, rapportarsi a Dio, rapportarsi al Padre, al Dio e allo Spirito Santo, creare i rapporti costruttivi con Dio, ossia crescere nella maturità cristiana. Da questo momento chiediamo la liberazione e la guarigione allo Spirito Santo, perché è uno Spirito che libera, uno Spirito che guarisce, però vuole noi collaboratori, noi persone collaboratori, collaboratrici, nella sua azione liberante, nella sua azione guaritrice, nella sua azione purificatrice. Spirito Santo, vieni, vieni in questo momento. Il Signore sia con voi, e con il mio Spirito, dal Vangelo secondo Giovanni, in quel tempo Gesù disse ai Suoi ricevori, «In verità, in verità, vi dico, se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, Egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome, chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Queste cose vi ho lette, insibili e utili, Ma vedrà l'ora in cui non vi parlerò più, insibili e utili, Ma apertamente vi parlerò del Padre. In quel giorno so chiederete nel mio nome, Ed io non vi dico che pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso mi ama, Poiché voi non mi avete amato, E avete creduto che io sono venuto da Dio. Sono uscito dal Padre, E sono venuto nel mondo. Ora lascio di nuovo il mondo, E vado al Padre. Parola del Signore. Parola del Signore. E una parola audace, Quella che ci dice Gesù, Nel Vangelo di oggi. Io vi parlerò del Padre apertamente, Non più in similitudini, Non più in immagini, Ma vi parlerò del Padre, Apertamente. Vi manderò il mio Spirito, Che vi farà conoscere il Padre. E in quel giorno, Voi chiederete nel mio nome, Pregherete nel mio nome, Pregare nel nome di Gesù, Per ottenere tutto. Però, Vi Gesù dice, Io non vi dico che pregherò il Padre per voi. Non ci sarà bisogno, Che io preghi il Padre per voi. Perché? Perché il Padre, Vosso stesso vi ama. Perché voi avete amato me, E avete creduto in me, Che sono venuto da Dio. Cioè, Appena voi aprite la bocca, Chiedete direttamente al Padre, E il Padre vi esaudirà. Non sarei io, A pregare il Padre, Perché vi ascolpi. Perché il Padre vi ascolterà. Perché il Padre vi ama. E se vede perché il Padre vi ama? Perché voi avete amato me. Ma che cos'è questo amore, Con cui noi amiamo il Padre, Con cui noi amiamo il Figlio, Se non quell'amore, Per cui il Padre ama il Figlio, E il Figlio ama il Padre, E lo Spirito Santo. E questo è l'amore che intercorre tra Padre e Figlio, E crea tra Padre e Figlio unità. Ed è questo l'amore, Che viene versato più di noi. Noi amiamo Dio. Dio ama noi. Noi amiamo Cristo. Cristo ama noi. E questo amore, Il medesimo amore che intercorre, Tra Padre e Figlio, Che lega noi al Padre, Lega noi al Figlio. E allora siamo una cosa sola. Non c'è bisogno che noi interponiamo come se fossimo estranei a Dio, Un'altra persona per chiedere e ottenere. Siamo in unione con Dio. Siamo in unione in Cristo con Lui. E basta aprire la bocca. Perché il Padre ci esaurirà. Perché noi chiederemo al Padre, Quello che Dio vuole. Quello che lo Spirito ci suggerirà. E il Padre ci ascolterà. Non abbiamo bisogno, Che ci sia il Figlio a chiedere, A interporci tra noi e Dio. Quasi che fossimo estranei a Dio. Siamo una cosa sola con Dio, Nello Spirito Santo. E il Padre ci ascolterà. Perché il Padre ci ama. Qui è la sublimità dell'amore di Dio. Mediante lo Spirito Santo, Noi siamo uniti a Dio. Dio è noi, E noi in Dio. Quello che noi chiediamo a Dio, Già Dio lo sa. Perché è lo Spirito Santo che Dio chiedisce in noi. Quello che dobbiamo dire. E il Padre che ascolta lo Spirito che è in noi, E salverà i gemini dello Spirito. E salverà a noi, Perché è nello Spirito che noi chiederemo. In Cristo e Gesù. Qui siamo nell'intimo della famiglia divina. Non siamo più estranei. Ma siamo una cosa sola. E quando si è una cosa sola, Allora tutto ci si chiede e tutto ci si dà. Il Signore vuole farci entrare in questo mistero, Nella intimità divina. Non abbiamo più bisogno di similitudini, di immagini. Siamo nella realtà. E questo verrà pienamente nell'altra dimensione, Ma già incomincia a verificarsi in questa vita, Se noi lasciamo che lo Spirito Santo scenda dentro di noi, E crei luce dentro di noi, Crei amore tra di noi, Crei vita tra di noi. Accennavamo nella preghiera di purificazione, All'idea che tante volte noi ci formiamo di Dio. E' nella luce dello Spirito Che dobbiamo formarci un'idea vera di Dio. Abbiamo perciò bisogno Di purificarci nei riguardi del Signore, Di liberarci dal grande idolo Che tante volte noi ci facciamo di Dio. Idolo che nasce da una non retta concezione di Dio, Da un non retto rapporto con Dio. E' soltanto lo Spirito Santo Che ci può dare la connessione vera di Dio E può creare in noi un vero rapporto con Dio. Ecco perché in quella bella trove Noi diciamo, oh Spirito Santo, Fa che conosciamo il Padre, Fa che conosciamo il figlio Che procede dal Padre, Fa che conosciamo te Che procede dal Padre e dal figlio. Perché la conoscenza di Dio, quella vera, E' alla base della nostra vita con Dio, Del nostro vero e qualificato rapporto con Dio. Tante volte noi abbiamo un'idea errata di Dio. Ci formiamo un Dio a nostra immagine e somiglianza. Oppure secondo le similitudini, Secondo le immagini degli uomini, Dio è diverso da qualunque immagine Che gli uomini possono darci, Da qualunque similitudine Tratta dal modo di vivere degli uomini. Dio è diverso da qualunque nostra concezione Che può essere antropomorfica. Dio è puro Spirito E soltanto nello Spirito Santo Possiamo conoscere chi è Dio, Nostro Padre. Il più grande idolo che noi possiamo fabbricarci E' l'idolo di Dio. Noi, tante volte, parliamo di abbattere gli idoli. Ma incominciamo a fare l'elenco degli idoli. Nell'elenco degli idoli ci sta al primo posto Dio. Al secondo posto ci sta io. E poi tutti gli altri. Un elenco molto lungo. Ma dobbiamo liberarci dall'idolo Dio. Cioè quando noi idolizziamo Dio, Lo facciamo a nostra immagine e somiglianza O a somiglianza di quello che gli uomini dicono. Dio è Spirito. Dio è Spirito. E Dio vuole che noi idoloriamo in Spirito e verità. Ricordate gli ebrei nel deserto. Quando Mosè si allontanò dal popolo E si è ricercato sulla montagna per parlare con Dio Allora il popolo voleva un Dio vicino. Non un Dio lontano. Non un Dio tra le nubi. Ma un Dio vicino. E si febbricò il vitello d'oro. In quel vitello d'oro adorava Yahweh. Non era un altro Dio. Ma in Egitto da cui provenivano il Dio aveva la semilitudine del vitello d'oro. Un Dio tangibile. Un Dio visibile. E allora diedero tutto l'oro che avevano e che diedero con tanta generosità. Quasi spossettandosi di se stessi si fabbricarono un Dio vicino. Un Dio visibile. Ma non era il vero Dio che abita un luogo inaccessibile, che abita nei cieli, che è puro spirito. E quando Mosè scesce e vide quella storpiatura di Dio, identificato in un vitello d'oro, lo ruppe, lo bruciò, lo incenerì, lo buttò nell'acqua. Tante volte noi ci facciamo un Dio a nostra immagine e famiglianza, secondo i nostri decideri. Ricordate quello che diceva Gesù. Non bisogna adorare un Dio a Gerusalemme. Non bisogna adorare Dio sul monte Galizim. Non è il Dio dei Giudei. Non è il Dio dei Samaritani il vero Dio. Il vero Dio è il Dio che si autorivela. E Dio vuole, da ora in poi, i veri Suoi adoratori, che lo adorino in spirito e verità. Fratelli e sorelle, liberiamoci da una falsa idea di Dio. Spiritualizziamo, qualificiamo il nostro rapporto con Dio. Dio è puro spirito. E Dio cerca questi adoratori, che non lo cercano a Gerusalemme, non lo cercano sul monte Galizim, non lo cercano raffigurato in questa maniera. Non ci facciano gli uomini un'idea antropoportica di Dio. Non ci credono un Dio a propria immagine e famiglianza. Il nostro Dio è quello che ci ha rivelato Gesù. È un Dio spirito. È questo Dio che noi comprendiamo nello Spirito Santo. È questo Dio che noi comprendiamo nella rivelazione di Cristo che è verità. Ed è a questo Dio che noi dobbiamo prostrarci. Via tutte le immagini false che abbiamo di Lui. Tutte le similitudini false che abbiamo di Lui. dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di darci la coniezione vera di Dio, dono dello Spirito, in modo che ci postiamo davanti a Dio in spirito e verità. Lo adoriamo. Ci rapportiamo a Lui nella purezza della mente, nella purezza del cuore, nella santità della vita. Io mi fermo qui, fratelli e sorelle, e vi chiedo oggi, nella forza del Spirito, di liberarci da questo grande idolo che ci siamo fatti, di un Dio falso. e vi chiedo di rapportarvi a Dio, di rapportarci tutti a Dio nella verità, accettare il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Dio della rivelazione, il Dio delle scritture, liberarci dai farsi di Dio e adorarlo in spirito e verità, qualificare il nostro rapporto con Lui nel santo timore di Dio e vivere in intimità con Lui come il nostro Signore Gesù Cristo ci ha detto nel santo Vangelo. Allora, la nostra gioia sarà vera, la nostra gioia sarà piena, come dice Gesù nel testo di oggi. Finora non avete chiesto nulla, chiedete e otterrete, perché la vostra gioia si è piena. E questa mattina noi chiediamo questo, la vera cognizione di Dio, per un rapporto corretto con Dio in modo che la nostra gioia si è piena. Amen. Noi sappiamo che non possiamo conoscere Dio se non nella tua luce. Tu soltanto, Spirito Santo, puoi rivelarci il Padre, puoi rivelarci il Figlio, puoi rivelarci te stesso. Ti chiediamo in questo momento la cognizione vera di Dio per poter rapportarci a Lui, per creare un rapporto qualificato, puramente spirituale, con Dio che è puro Spirito. Liberaci, oh Spirito Santo, da tutto ciò che ci dà la sensazione di Dio, ma che non è Dio. Oh Spirito Santo, ti chiediamo di farci conoscere Dio, nostro Padre, di farci conoscere Cristo, nostro Salvatore. Ti chiediamo, Spirito Santo, di rivelarci a noi quale sei. Tante volte noi confondiamo te, confondiamo te, che sei purissimo Spirito con tutte le nostre sensazioni, con il calore che noi sentiamo, con tutto ciò che dipende dalla nostra sensibilità, ma non sei tu. Oh Spirito Santo, tu sei impalpabile, tu sei indissimile. è vero che tante volte ti manifesti, così a noi in similitudine, immagini, in sensazioni, per farti comprendere che tu eserciti un'azione tra di noi, ma tu sei al di sopra dell'azione che compie. Tu abiti una luce inaccessibile, tu sei purissimo Spirito, nessuno mai ti vede. Oh Spirito Santo, perché sei purissimo Spirito, l'esperienza di te è un'esperienza ineffabile, ma puramente spirituale, che tante volte hai dei riflessi, anche nel nostro essere sensibile, ma che è al di sopra dell'essere sensibile. Nessuno Spirito Santo ti può toccare, nessuno Spirito Santo può tenerti in mano, perché sei al di sopra. Oh Spirito Santo, tu pervado il universo, tu riempi di te tutta quanta la creazione. Oh Spirito Santo, noi non possiamo averti in mano, possiamo sentire la tua presenza, la tua azione, ma non possiamo prenderti in mano e possederti pienamente. Possiamo sentire qualche cosa di te. Oh Spirito Santo, dacci una vera cognizione del Padre, una vera cognizione di Cristo, vero Dio e vero uomo, una vera cognizione di te. Eleva il nostro Spirito a te e fa che la qualità della nostra vita spirituale sia una qualità eccellente, autentica soprattutto, in modo che noi non confondiamo noi stessi, non confondiamo gli altri. Spirito Santo, vieni, vieni e purificaci, purifica la nostra mente, purifica il nostro cuore, purifica i nostri sensi. Spirito Santo, vieni, dacci la conoscenza di Dio. Hai detto? Quando scenderà il mio Spirito, voi avrete la vera conoscenza di Dio. Non avete bisogno di domandare l'uno all'altro che è Dio, perché la conoscenza di Dio riempirà tutta la terra. Alleluia! Alleluia! Io adesso, ho Spirito di Dio, noi ti invochiamo. Ti invochiamo perché possiamo autodiberarci da tutte le scorie che annebbiano la nostra fede, sterilizzano la nostra speranza, debilitano la nostra carità. Ti chiediamo, Spirito Santo, di autoguerirci da tutte le malattie, da tutte le piaghe, da tutte le impurità che noi abbiamo contratto lungo il cammino. Spirito Santo, vieni dentro di noi, liberaci, guariscici, curivicaci, elevaci, sassiaci di te, uniscici a te, e noi vivremo. E adesso, ho Spirito di Dio, esaurisci la nostra preghiera. Sei tu a pregare dentro di noi. Noi ci mettiamo nelle tue mani, ho Spirito di Dio, mettiamo le nostre debolezze, mettiamo i nostri difetti, mettiamo nel tuo mani le nostre malattie, le nostre ferite, le nostre impurità. Ho Spirito Santo, noi mettiamo davanti a te tutte le malattie dei fratelli, tutti i nostri fratelli malati, tutti i fratelli oppressi, tutti i fratelli che sono stati sauciati nel cammino della vita, tutti i fratelli nostri in pericolo che invocano il tuo nome. Ascolta, Spirito Santo, la nostra preghiera e uniti a te, noi ci rivolgiamo al Padre da cui dicendo ogni bene in Cristo Gesù. Amen. E fonde su di noi in questo momento uno spirito di consolazione. Come detto in Zaccaria, e rendici comprese che nell'unione a Cristo Signore che noi abbiamo la vita, dove si trova lo Spirito Santo, dove si trova. Ricordate nel Battesimo lo Spirito Santo è sceso su Gesù ed è Lui che lo dona e lo dona in abbondanza a chiunque crede in Lui. Gesù è nella Chiesa vivente. Gesù è nella Chiesa vivente. lo Spirito è nella Chiesa vivente. ed è Lui che lo affonde. Per cui, diceva bene Gesù, io sono la vita e voi tracce. se rimanete in me io rimango in voi e porterete molto frutto. Lo Spirito Santo è la vita di Gesù e la limpa vitale di Gesù. rimanendo in Lui noi giustiamo da Lui lo Spirito che dà la vita. E allora non ci resta che aderire a Cristo Signore trovare lo Spirito in Cristo integrarsi in Lui succhiare la limpa da Lui e fruttificare Lui è quello che noi chiediamo in questa Eucaristia. Nell'Eucaristia Cristo ci va presente. Lo Spirito Santo rende presente Gesù nell'Eucaristia ma quando Gesù scenderà dentro di noi Egli ci comunica il suo Spirito. Ce lo comunicherà in misura che noi lo possiamo ricevere da Lui. E allora lo Spirito Santo in noi lo Spirito che riceviamo nell'Eucaristia sarà liberazione guarigione luce forza vita. Chiediamo al Signore Gesù di disporci a questa Eucaristia in modo da ricevere in Lui durante la comunione l'abbondanza del suo Spirito e di ricevere in Lui ogni guarigione ogni riparazione ogni consolazione. Spirito Santo che procede dal cuore di Cristo scendici di noi questa mattina e riempici di Te. Tu che riempi tutto l'universo nella Tua presenza riempi i nostri cuori perché riempiti di Te possiamo vivere nella luce nella guarigione perfetta nella consolazione nella pienezza della vita. Spirito Santo vieni e riempi il cuore dei Tuoi fedeli. Amen. Il Signore comincia ad operare e già ha toccato l'orecchio di una persona che aveva come un tappo. La persona adesso sente chiaramente però è un segno questo che lo Spirito Santo vuole aprire le nostre orecchie per ascoltare la voce del Figlio di Dio e perché noi possiamo vivere in Lui. Lo Spirito Santo tocca il fegato di una persona ingrossato anche questo è un segno perché noi possiamo farci animo perché noi possiamo essere forti e camminare nelle vie del Signore. Lo Spirito Santo ancora rafforza le nostre membra c'è in questo momento uno Spirito di guarigione fisica nelle membra in tutte le membra del corpo sentiamo come una vigoria nuova è segno dell'azione dello Spirito Santo su di noi che crediamo in Lui. di Lui.